I just want to close where you can stay forever Spero che anche grazie a questa esperienza tanti giovani possano sentirsi attratti dalla vita religiosa perché la vita religiosa non è quella cosa brutta, cupa, che si pensa o delle suore ma anzi è una cosa bellissima perché noi abbiamo incontrato la gioia e siamo gioiose nel cuore Grazie a tutti